Buongiorno a tutti, io mi chiamo Nicola e sono un bambino di 9 anni. Io volevo parlare oggi dell'inculamento che la plastica sta dando ai nostri mari. Però come fare, toglierlo, senza dover sempre andare a dispiace a raccogliere le bottiglie e semplicemente navigare in internet? Sicuramente voi usate tanti motrii digitali, i principali essi per voi sicuramente è Google ma anche Bing, Yahoo, DuckDuckGo e ce ne sono tanti miliardi. Però non esiste solo uno che ogni quundici ricerche può togliere una bottiglia di plastica dal mare. Questo motriolo di ricerca si chiama Channel Hero. Vado prendere il foglio? Un secondo. E ho questo simbolo qua. Per scaricarlo se usate un telefonino, un tablet dovete andare nel vostro Play Store e nel vostro App Store e scrivete Ocean Hero che si scrive O-C-E-N-H-E-R-O e dovete cliccare install. Se usate invece un computer dovete aprire Google o comunque il vostro browser dovete digitare Chrome Web Store. Una volta andate nel Chrome Web Store dovete scrivere dove c'è scritto Cerca nello Store sempre dovete scrivere Ocean Hero che si scrive naturalmente Ocean Hero e poi dovete cliccare il primo risultato che vi è uscito. Poi cliccate aggiungi e vi uscirà il controllo. Vi chiederà se può modificare dati del browser ma non vi preoccupate è totalmente sicuro e innocuo. Una volta cliccato aggiungi e cliccato che si accetta si può aprire la prima pagina dove uscirà il benvenuto di Ocean Hero poi dovrete aprire un'altra pagina per iniziare a navigare ma vi chiederanno se volete mantenere le modifiche oppure no. Dovete cliccare di sì e comunque non vi preoccupate tutti i vostri email, tutti i vostri dati, tutte le vostre password saranno sempre nel browser. L'unica cosa che cambia è che aiuterete a togliere bottiglie di plastica dal mare. Spero tanto che vi piaccia da Nicola